allora oggi alpini raw entra di prepotenza nell'orto dei funghi qui siamo sulla fine del set del terzo capitolo e sebbene la nostra amata o quanto amiamo questa black magic sia qui pronta per registrare la memoria è piena e non abbiamo ancora finito di fare i backup ovvero il trasferimento dati quindi non la possiamo concretamente usare quindi ricorro al cellulare e alla brutto giorno faccio questo unboxing assolutamente forse glorioso allora un biglietto un biglietto che ci dice robe immagino siano istruzioni ma ora non ci interessano le istruzioni quello che ci interessa ora è questo flexare la vita eccoli shiitake questo è l'incelio su substrato di agaragar con tutta la sua bella umidità dentro e non è che mi piacciono molto queste parti gialline qui di lato comunque questo è il riccio mesinaceus poi ci dovrebbe essere da qualche parte questo ovvero la cultura liquida di reishi di enoderma lucidum purtroppo di questo non c'era la piastra petri e quindi abbiamo comprato direttamente la siringa liquida c'è anche qualcos'altro qui un ago non capisco capiremo ma non adesso il concetto fondamentalmente è questo questo piattello contiene il micelio questi piattelli contengono il micelio sviluppato dei funghi noi siamo abituati a pensare che il fungo sia questa parte qui con questa classicheggiante forma fatta di un gambo e un cappello ebbene questo è il frutto del fungo che se volessimo fare un parallelismo con una pianta potremmo dire che questo è il pomodoro il frutto del pomodoro mentre questa muffa bianca qui attorno il micelio appunto è la pianta in un qualche modo con tanto di apparato radicale e fogliare in un unico organismo ora 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 no no pensavo che fossero più grandi sono molto piccole troppo piccole vabbè insomma ne prenderemo poi delle altre questo è il set di piastre petri che abbiamo preso apposto per poter incominciare a farci i nostri piattini di cultura del micelio questo è il il malto la garra garra e il levito nutrizionale che ci serviranno per preparare il substrato ovvero questa roba qua questo qui è un un misto di questi tre elementi che seguono un'apposita procedura per riuscire a insomma a generarsi prima liquido poi si solidifica e sopra gli viene messo l'inoculo quindi quindi il più velocemente possibile dovrei preparare i piatti i piattini petri con del nuovo agar agar e poi con questi sterili bisturi dovrei andare a prendere dei pezzettini da questo substrato e trasferirli negli altri come si può vedere qui c'è una sorta di piccolo piccola forma spigolosa che non è altro che la testimonianza del fatto che in questo piattello è stato appoggiato sopra un pezzettino estratto da un altro piattello quindi se io qui con il bisturi andassi a recidere un rombo di questo substrato e lo prendessi e lo andassi a mettere su un altro piattello dal pezzettino che porta il micelio il micelio poi andrebbe a colonizzare tutto il resto della gara gara così come è successo in questa e anche in questa anche se qui non si vede perché è sotto l'etichetta qui vedo un micelio bello bianco omogeneo fluffoso ben sviluppato qui qui non capisco perché qui ci sono dei pezzi delle scoriazioni gialline che per quanto ho potuto studiare fino adesso potrebbe essere testimonianza di una contaminazione o spero di un primo tentativo di fare corpo fruttifero ad ogni modo è il momento di sbrigarsi perché questa è roba viva e con la roba viva bisogna rispettare tempistica per cui ho fiducia che ci vedremo prestissimo con i prossimi capitoli per oggi è tutto buon attimo presente e ti voglio bene grazie a tutti